Batti le mani, schiocca le dita, codice shiko tutta la vita A proposito di codice shiko Se inserite il codice shiko in supporto a un creatore su Fortnite E ci taggate in una storia su Instagram in cui shoppate Qualsiasi cosa nello shop ragazzi, qualsiasi tra queste skin Noi riposteremo la storia e in più risponderemo i vostri messaggi Tutti i giorni Comunque ragazzi oggi vediamo le 15 cose più odiate in assoluto della stagione 6 di Fortnite Iniziamo ragazzi dalla numero 15 Vi ricordo che è una lista di cose americane Quindi non è detto che anche noi italiani o che chi guarda questo video sia d'accordo con queste cose E nel dubbio scrivetemi nei commenti qual è la cosa che odiate di più di questa stagione Comunque ragazzi la numero 15 sono i pesciolini rosa Infatti ragazzi come vi ho spiegato nello scorso video Ci sono un sacco di modi assurdi per usare questi pesci E anche solo nel momento in cui un nemico si boxa Ci bastano 3 pesci per distruggerlo Raga è una morte certa Sono fortissimi Fanno un sacco di danni E ragazzi se utilizzate bene questi pesci Diventerete veramente ma veramente i vincitori della partita Passiamo ragazzi alla numero 14 con il fucile A pompa primordiale Che è praticamente la versione attuale Del fucile a pompa Quello che c'era nella stagione 9 del capitolo scorso Non so se ve lo ricordate E ragazzi devo dire che a me personalmente piace Perché diciamo che è un pompa che In alcune situazioni quando devi spammare un pochino Verso un nemico ti aiuta Però devo ammettere che in tantissimi lo odiano Perché dicono che sia troppo forte o troppo spammoso Ragazzi a me piace solo il fatto che questo pompa Ha dato la possibilità magari a tantissimi giocatori Anche nuovi di vincere partite E secondo me ragazzi è la cosa giusta Io mi ci trovo bene Mi trovo meglio col pump Ma non mi trovo male con questo pompa Quindi dico che secondo me ci sta Però lo odiano in tanti Prima di continuare voglio parlarti di Boosteroid Che è la miglior piattaforma di cloud gaming presente sul mercato Ecco cosa devi sapere Con Boosteroid puoi giocare i tuoi giochi preferiti sul tuo browser Ovunque tu sia Utilizzando il tuo computer, laptop, smartphone o tablet Tra i vantaggi del servizio di cloud gaming Boosteroid Trovi l'archiviazione e l'esecuzione di giochi Esclusivamente su server Boosteroid Ciò significa che puoi avere accesso remoto Alla tua libreria di giochi Utilizzando il tuo dispositivo preferito come monitor E creando così uno streaming interattivo E' disponibile anche l'app di Boosteroid Su telefoni Android Windows 10 a 64 bit E Windows 7 a 32 bit Accedi subito a www.boosteroid.com E avrai giochi come Fortnite, World of Tanks, FIFA, Call of Duty e Minecraft A portata di click E non dimenticarti che ora puoi registrarti come inserzionista E guadagnare con il programma di affiliazione Controlla il link in descrizione E scopri di più Ma passiamo alla numero 13 Con cui io non sono per nulla d'accordo Ossia le lamentele sul crafting Per chi non lo sapesse ragazzi Anche se ormai lo sappiamo tutti Il crafting è quella cosa che ci permette Di potenziare le armi Gli archi o tutte le nostre cose Con le ossa Le parti meccaniche O comunque i cosi che lasciano le rane Insomma di craftare oggetti migliori Di quelli che abbiamo E tanta gente si lamenta del fatto che questa cosa Ha fatto sì che tanti player Atterrassero in posti diversi Rimanessero più camperati Rimanessero a raccogliere parti Per fare armi migliori Invece che cercare di atterrare E prendere direttamente le armi Come si faceva prima Ragazzi io personalmente Non ci vedo nulla di male Cioè non mi è mai capitato Personalmente di atterrare In un posto apposta Per prendere le parti Per potenziarmi le armi No raga Cioè io atterro nel posto Luto le cose Mentre luto magari prendo qualche pezzettino E poi mi potenzio le armi Quindi ragazzi Sulla 13 io non sono d'accordo Alla dodicesima posizione ragazzi Parliamo di un aggiornamento Alle regole di Fortnite Che diciamo ha dato fastidio A un po' di player E parliamo delle wager Ragazzi per chi non lo sapesse Le wager consistono Delle 1v1 A scommessa Quindi tu punti del denaro Dei soldi E se vinci in 1v1 Prendi anche la parte Di chi ha scommesso Questa cosa ragazzi Le facevano in tantissimi Non era vista come una cosa Particolarmente brutta Però la Epic giustamente Essendo che tanti minorenni Giocano a Fortnite Non voleva promuovere Il gioco d'azzardo E faceva anche bene ragazzi Il gioco d'azzardo È una schifezza E quindi ha deciso Di rimuovere questa cosa E di penalizzarla ragazzi Quindi Lo era in realtà Anche già da prima Ma ora è super super ufficiale Non si possono fare le wager In tanti ragazzi Purtroppo si sono lamentati Facendo l'hashtag ReapFortnite Ma secondo me È stata la scelta giusta ragazzi Il gioco d'azzardo È una cosa sbagliatissima Tornando su Fortnite Per la numero 11 Ragazzi Parliamo delle armi Improvvisate Che sono una novità Di questa stagione In tantissimi ragazzi Si lamentano del fatto Che queste armi Per quanto riguarda la R Non hanno più La precisione assoluta Quella del primo colpo Che aiutava tantissimi I miei giocatori O comunque Ti permetteva di Essere sicuro Che le hit entrassero E per quanto riguarda Il pompa La lamentella riguarda Il fatto Che ci sono solo Due colpi Nella versione comune Per dirvi Comunque La poca disponibilità Dei colpi Secondo me ragazzi Non è corretto Lamentarsi su queste cose Non lo so Secondo me Questa season Mi piace più delle altre E sono un po' contro Tutte queste cose Che non piacciono su Fortnite Però che cavolo Cioè Se un'arma ha due colpi Non prenderla Scegli un'altra arma Se trovi quella Cerca il modo migliore Di utilizzarla Il problema è quando Le armi sono troppo forti Secondo me Ma quando sono troppo scarse È il nostro modo Di utilizzarle Che fa cambiare Il gioco Passiamo ragazzi Alla numero 10 E a proposito di 10 Andate qua sotto Un attimo Qui sotto E controllate Se siamo già arrivati A 10.000 Mi piace E se non ci siamo Già arrivati ragazzi Dovete assolutamente Mettere un mi piace In questo momento Perché vi sto per parlare Della collaborazione Di Fortnite Ossia Della skin di Neymar Junior Sicuramente ragazzi A tanti di voi Piace questa skin Tantissimi di voi L'apprezzeranno Soprattutto quelli Che seguono il calcio Io purtroppo Non lo seguo Però ragazzi Devo dire che Gli americani Hanno un po' ragione Nel senso Sono un sacco di stagioni Che noi vediamo Collaborazioni Su collaborazioni E la Marvel E la DC E tutte le cose Che Fortnite ha fatto Quindi dopo così Tante collaborazioni In tanti si sono stufati Quindi avrebbero preferito Ragazzi Una skin speciale Segreta della stagione Un po' più riguardante Fortnite E non qualcosa di esterno Come le collaborazioni Ragazzi A me sinceramente Dispiace per Neymar Che ha fatto la collaborazione Poi magari in tantissimi Non la vogliono Poverino Ma passiamo alla numero 9 Ragazzi Con una lamentela Che non ci è per niente nuova Ossia Le cose puzzolenti Su Fortnite Ragazzi In tantissimi Nelle scorse season Si erano lamentati Di queste cose Puzzolenti Che tolgono direttamente La vita Senza passare Dallo shield Anche se Io personalmente Le apprezzo tutte Perché secondo me Sono proprio una parte Della tattica di gioco E se ci pensate Fortnite Una delle cose Che vuole evitare È proprio quella Di rimanere chiusi Nel nostro box Scamperati E l'arco puzzolenti I pesci puzzolenti Tutte le cose puzzolenti Sono proprio una cosa Che ci permette Di non far stare Chiusi nel box I nemici Quindi La lamentela Del dire Che fastidio Che il nemico Continua a spararmi Frecce puzzolenti Nel box È una cosa giusta Perché Fortnite Non vuole che noi Ci boxiamo tutti E secondo me Le cose puzzolenti Sono il modo giusto Per farlo Sempre parlando di archi Ragazzi Passiamo alla numero 8 Parlando dell'arco a impulso Secondo tantissimi ragazzi Questo oggetto È super odiato Per via del fatto Che è praticamente Un arco Quindi fa danni Ci permette Di avere 30 Utilizzi E di riraccoglierli Quindi sono le nostre Frecce E in più ragazzi Ci permette Di muoverci tantissimo In giro per la mappa Secondo me Non è poi così forte Anche perché ha bisogno Di condizioni particolari Per funzionare E diciamo ragazzi Che non lo so Io personalmente Preferisco l'impulso Perché sono più comode E non hanno bisogno Di essere caricate al massimo Però comunque Non apprezzo Né disprezzo L'arco a impulsi Secondo me Fa proprio parte del gioco E fa bene a farne parte Quindi Io Non me ne lamento Ma passiamo alla numero 7 Raga Per la cosa che io Davvero odio In questa season Ossia La tempesta Cioè raga L'epica ha detto Dobbiamo fare in modo Che le persone Non stiano nella tempesta Ho trovato il modo Vedranno tutto viola Raga È assurdo Cioè io letteralmente Odio la tempesta Appena ci entri Non vedi nulla Non so se è il mio schermo Il mio computer Se è qualcosa di mio Ma letteralmente Non vedo un cavolo E è ingiocabile Quindi questa cosa Spero la cambino in fretta Magari quando guarderete Questo video L'hanno già cambiata A me la tempesta Non piace per niente Ma passiamo ragazzi Alla lamentela Nella sesta posizione Ossia la rimozione totale Dei cecchini Personalmente Non mi lamento Per nulla Perché non c'è cosa più bella Che avere l'ansia Di camminare tranquilli Ragazzi Ok ci sono gli archi Ma gli archi Non one shotano Ed è bellissimo Raga Cioè davvero Io so che in tanti Amano il cecchino Sono sicuro che in tanti Sono fortissimi Col cecchino Ma mi piace la tranquillità E capisco anche il motivo Per cui l'epic Ha fatto questa cosa Ossia Di essere un po' più tranquilli Quando giriamo per la mappa Cioè ragazzi Immaginatevi Tutte le volte In cui siete stati cecchinati Con 200 in HS Da lontano O che vi siete ritrovati chiusi In un fortino noioso Perché il nemico Vi sparava O vi spammava Adesso i combattimenti Sono più dinamici Più veloci Da lontano L'arco non vale nemmeno tantissimo Quindi si sparano un paio di colpi E poi si pusha il nemico E se non pusci Non sei un sushi Entriamo ragazzi In top 5 La mentele Parlando del fatto Che si possano assoldare Gli NPC Ma che sono inutili Praticamente ragazzi Nelle scorse season Gli NPC erano un pochino Più forti di ora ragazzi Però Fortnite giustamente Non voleva dare troppo vantaggio Quindi diciamo che Li ha resi un po' più stupidi E diciamo che A momenti Più che aiutarci Ci danno fastidio Cioè Picconano le nostre build Sono sempre in mezzo Non sparano poi così tanto Al nemico Vengono uccisi super facilmente Quindi ragazzi Diciamo che Non sono poi così utili Tanto che io Non li assoldo mai E con la quarta posizione Iniziamo a parlare Delle cose veramente Tanto tanto odiate Ossia Gli stivaletti Che ci fanno saltare Qual è il motivo Per cui sono odiati? La difficoltà Con cui si prendono Questi stivaletti In relazione A quanto poco Forti siano E a quanto poco Un vantaggio siano Perché ragazzi Vi ricordo che Per prendere questi stivaletti Dobbiamo girare Con una palla gigante In testa Per tutta la mappa E andare a lanciare Questa palla In una cavolo di roccia Per prendere gli stivaletti E poi Questi stivaletti Non fanno altro Che farti saltare Un pochino di più Per tre volte di fila Poi si attiva Il paracadute Che è quasi fastidioso In fight E potrebbe farti uccidere Io personalmente Apprezzo questi stivaletti Anzi ragazzi Ci fanno andare In safe più velocemente Che è uno dei problemi Che ho più spesso Su Fortnite Quello di controllare Dov'è la safe Dover prendere le macchine Fare in fretta E quindi non mi godo Mai la partita Questi stivaletti Potrebbero essere Un po' la soluzione Dato che comunque Sono non poi Così difficili Da prendere Per andare più veloce In safe Soprattutto ragazzi Al terzo salto Il paracadute Entriamo in top 3 ragazzi E parliamo Delle boss Delle guardie Di quei cosi strani Che ci sono in questa season A me non danno fastidio Perché io non atterro mai In punti in cui ci sono loro Li evito E non li guardo nemmeno Quindi Non mi hanno ancora Dato fastidio In questa season Però so che ragazzi Cioè Sono troppo forti In tantissimi anche gli SJ Ma anche comunque Altri membri di altri team Mi è capitato Registrando insieme Che morissero per questi bot Raga sono forti La epica Ha voluto proprio Darci fastidio In questo caso Quindi in tantissimi Si lamentano E vorrebbero Che facessero Meno danni Alla seconda posizione Ragazzi Parliamo del fastidio Che danno gli animali Mentre fightiamo Allora Secondo me È una cavolata Solo per il fatto Che comunque Davano molto più fastidio I bot Che ti sparavano Insieme ai nemici Che ti sparavano Ed era una cosa Che mi faceva super arrabbiare Almeno gli animali Ti basta Cioè Li uccidi super facile Non ti sparano da lontano Quindi devono avvicinarsi Per farti male Quindi Sei cinghiali Che i lupi Che i veloci raptor Tutte queste cose Sì ok Forse i veloci raptor Sono un po' forti Però comunque basta qualche colpo E siamo salvi Quindi non capisco Queste lamentele Quando addirittura Puoi assoldare Pure i pet Però capisco che a volte Potrebbe dare fastidio Magari stai fightando E arriva un lupo Che non solo ti fa i versi Ma pure ti fa i danni O un veloci raptor Che ti dà fastidio Quindi ragazzi La numero due La capisco Ma una cosa Che non capisco È la numero uno Raga No Si stanno lamentando Perché non c'è mobility Perché non c'è la possibilità Di muoversi per la mappa Raga Non hanno visto il mio video Ecco Il problema è che i miei video Sono in italiano E non li vedono gli americani Perché io nello scorso video Vi ho spiegato mille modi Su come muovervi Nella mappa Raga Cioè vi ho spiegato Come muovervi con i polli Con le ruote Con le jump Cioè le jump intese Quelle sopra le torri Con l'impulso Raga vi ho spiegato Un milione di modi E quindi non è giusto Che si lamentino Che non ci sia mobilità Perché i polli Sono la vita E abbiamo pure le macchine E niente ragazzi Il video termina qui Spero che vi sia piaciuto E vi ringrazio per essere arrivati Fino a questo momento del video E se ci siete arrivati Iscrivetevi nei commenti Una intro Da fare nel prossimo video E per ora Noi non possiamo far altro Che salutarvi E ringraziarvi Perché noi come se ci vediamo Al prossimo video Bella